Per prima cosa volevo fare complimenti a Limidi per la partita di stasera, combattuta, un ringraziamento anche alla Wisp che ci dà occasione di fare questi campionati. La partita è stata una partita, come negli ultimi anni abbiamo fatto tante volte contro di loro, una partita combattuta, una partita lottata, noi un po' meglio sul piano del gioco, loro molto cinici come sempre, però noi è il secondo anno che vinciamo le finali e quindi penso che sia un traguardo notevole. Ripeto, l'avversario è stato nobile come è stato nobile l'Avis in semifinale, partite sempre tirate, però penso che alla fine la Cesama abbia meritato la vittoria. Gli campioni e l'avversario facciamo noi, facciamo noi! Giussetti Moreno dell'Atletico Limidi, io sono un po' il veterano della squadra per ragioni di età. Facciamo i complimenti alla squadra avversaria, la Cesare che sono stati più bravi di noi e hanno giocato veramente bene. Complimenti anche per l'atteggiamento che hanno avuto in campo, che sono stati più che corretti e quindi la partita si è risolta nel migliore dei modi, tranquilla, senza ris, senza problemi di disciplina eccetera. Quindi questa è la cosa importante. Complimenti ancora loro, noi abbiamo fatto il possibile, siamo arrivati un po' rimaneggiati, avevamo qualche duno infortunato che non ha potuto giocare, quindi abbiamo fatto il possibile, siamo stati in partita fino a metà del secondo tempo e poi dopo la partita si è risolta per loro. Grazie a tutti, grazie alla Wisp e grazie anche agli altri. Grazie a tutti. Grazie Moreno al torre del gol, numero uno, non si va via. Lui, 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 aspetta il capitano, il capitano lui è inchiavabile, fa schifo, quindi questo è per tutti. E poi vorrei ringraziare un mio amico che stasera non ha potuto giocare ma avrà dato, cioè ringrazio un mio amico che non ha potuto essere qui con noi stasera per dei problemi, ma avrebbe dato il cuore. Ringrazio Aldo perché è mio fratello, quindi forza Cesare. Un attimo. La gara è diretta dall'ambito signor Fergo con gli assistenti Nadalini e Totaro della sezione Wisp di Modena. Squadre Società Limiti, Maglia Zalla. Capitano numero dieci, Flamia Enrico. Via. Numero uno, Ornaldi Luca. Il tre, Battini Federico. Il sei, Dallari Luca. Il undici, Ferrara Daniele. Quindici, Lusetti Moreno. Numero sette, Mattioli Gianmarco. Numero cinque, Serapini Simone. Numero quattro, Sottili Jim. Otto Valentini Enrico. Quattordici, Vicario Simone. Com'è che corre? Come si non forse. Numero sette, Cesare Marmi, Maglia Bianca. Capitano numero otto, Boccaletti Emiliano. Boccaletti! Numero dieci, Comentale Sebastian. Numero sette, Baccega Virto. Numero tre, Dell'Anti Virto. Numero cinque, Dell'Anti Moreno. Numero venti, scusate, numero undici, Daya Selman. Numero sei, Garottolo Simone. Numero due, Ranieri Macco. Numero nove, Stata Arbe. Numero quindici, Tufano Gabriele. Numero uno, Zara Giuseppe. Numero quattro, Taci Miran. Allora signora, primo nominato. Numero quattro, Tufano, Tufano, Tufano. No, Zara Giuseppe. Cosa sentito? Nel sito balsamico? Sì, sì. No, mi ha fatto noi, segno di sale. Allora, quando esce, non ci... Ti prego. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Testa. Il campo, mi sono là. Grazie a tutti. 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 . a tutti. . 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